Hai mai sentito il segreto delle vongole che si bilano sotto l'acqua del mare? Seguici fino alla fine per scoprirlo. Una danza di acqua e sabbia si svolge in un delicato rituale di purificazione, mentre le vongole si disfano del loro passato terroso. Nel cuore di una padella, l'aglio e l'olio si incontrano, testando un inizio dorato per una storia di sapori marini. Uno scatto improvviso, le vongole si dischiudono, rivelando il loro tesoro nascosto. Ti sei mai chiesto quali segreti racchiudano? Un fiume di vino scivola tra i gusci, portando promesse di un'aroma che ti invita a sognare una riva lontana. Il rosso intenso dei pomodori si mescola al mare in pentola, un matrimonio di terra e acqua che solletica l'immaginazione. Un tocco di verde, il prezzemolo come pennellata finale su una tela di gusto che prende vita davanti ai tuoi occhi, oserai resistere alla tentazione? Il pane tossato, onde croccanti su cui navigare, ti aspetta per immergerti in questo oceano di sapore. Sei giunto a questo porto di sapori, ma la scoperta non termina qui. Iscriviti al canale per veleggiare verso nuovi orizzonti culinari e non dimenticare di visitare il nostro sito web.